Buonasera, siamo in Corso Roma, oggi è il 31 e c'è un sit-in, una passeggiata di Italexit e qui abbiamo il nostro candidato di punta, l'avvocato Alberto Costanzi. Dì qualcosa di questa tua presenza qui. No, ma questa presenza ha una motivazione ben precisa, non siamo qui per una passeggiata. Siamo qui perché abbiamo saputo che tra poco arriverà il signor Salvini Matteo e vogliamo farvi una domanda perché gli economisti, gli esperti, spiegano che il caro Bolletto non è un fatto ineluttabile, è un fatto voluto e provocato dal governo. Questa cosa ci ha sconvolti, cioè ci spiegano che avganciando il prezzo del gas ai future sulla piazza di Amsterdam relativi al gas liquefatto americano è stato volutamente provocato un aumento esponenziale. Quindi il governo sarebbe responsabile di questa cosa e il signor Salvini Matteo che l'appoggia, se questo è vero sarebbe un traditore del popolo. Noi vogliamo che lui ci spieghi che non è così. Allora siamo veramente a questo punto vogliosi di vedere questo incontro, quindi speriamo che arrivi in un tempo utile così da riprenderlo. Grazie avvocato.